Tutti, prima o poi, viviamo una crisi interiore, per cui la vita perde di significato e ci sentiamo prigionieri di emozioni negative. Ma dovremmo sapere che le crisi ci fanno dubitare di ciò che siamo e sono una grande possibilità che ci viene offerta per ritrovare noi stessi e per integrare i nostri impulsi distruttivi. Infatti nei nostri impulsi ripudiati sono insiti anche elementi preziosi della personalità e della nostra parte creativa. Certamente è difficile non essere turbati da eventi che rompono con violenza e turbano i nostri equilibri, ma dobbiamo avere la fede psicologica che ogni tassello, anche il più inquietante, può avere un senso che noi capiremo soltanto dopo e lo capiremo se attiviamo un atteggiamento creativo. Si tratta del richiamo ad una realizzazione personale e se non rispondiamo continuerà a tormentarci perché ormai ci siamo svegliati e non possiamo più far finta di non aver sentito. Tanti altri video come questo nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Buona giornata.